Calciatori e VIP le compravano a metà prezzo per regalarle alle fidanzate. All'estero venivano vendute invece per vere, un giro di falsi che invadeva i mercati organizzato da un'associazione a delinquere che aveva la sua base proprio qui in Toscana. Sì, le persone che andavano a vendere al dettaglio questa merce sapevano di vendere un prodotto di alta qualità ma contraffatto. Chi le acquistava specialmente qui in Italia che avveniva per lo più tramite canali diretti sapeva di acquistare un capo contraffatto, merce contraffatta. Ecco, e questi sono alcuni degli oggetti, alcuni dei 50.000 oggetti sequestrati dalla Guardia di Finanza. Un giro di danaro che arrivava a 5 milioni di euro, un'associazione a delinquere vera e propria che partiva dalla Toscana e arrivava fino all'estero. I militari della Guardia di Finanza via Regina e la DDA di Firenze hanno disarticolato questo gruppo dalle ramificazioni internazionali, sette le persone domiciliari per i reati di ricettazione e contraffazione dei più famosi Marchi della Moda, da Gucci e Il San Loran a Ferragamo, ordinanze eseguite a Milano, Monza, Empoli e Firenze nei confronti di 5 italiani, un cittadino cinese e uno coreano. Sono stati indagati complessivamente 21 soggetti, implicati a vario titolo nell'attività illecita che non si fermava neanche durante il lockdown. Tra questi figurano tre coppie padre e figlio, sequestrati, otto immobili, un terreno, 33 conti correnti, quattro auto e quattro moto.